Buongiorno Eccolo, vai avanti Alessandro, vai chiudilo Muoviti, muoviti, secco, muoviti Vai avanti, vai avanti Tira i colpi, vai Alessandro Tira che al destro Tira che al re Vai subito Subito Tira il punito Un colpito solo Vai avanti con le gambe Portano le porte Alessandro Muoviti Dile che colpi Dile che colpi Tra uno solo, tre, due Tira Due o tre colpi Alessandro Muoviti 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 Dai 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 Alessandro Alessandro Vai avanti Tira i colpi, dai Muoviti Dai Alessandro Tira i colpi, dai Su Fuori Dai Alessandro Tira i colpi, dai Tira i colpi Tira i colpi Dai Alessandro Tira i colpi Subito Tira i colpi Tira 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 Alessandro Vai a fare un giro, un giro, un giro. Alessandro, tirati i colpi. Tira! Guarda il contatto sotto Alessandro! Tirati i colpi, Salandro! Dai giù di nuovo! Stai su con la mano sinistra! Dai, Alessandro! Dai, Sanro! Tira i colpi! Dai, Sanro! Dai, Cristiano! Dai! Tira! Tira il 1-2! 1-2, Alessandro! Dai, ancora! Dai, Alessandro! 10, dai, 10, Sanro! 10, Sanro! 10, Sanro! Dai, subito! 8, finito! 10, Sanro! 8, finito! 10, Sanro! 10, Sanro! 10, Sanro! 10, Sanro! E movi! Movi, Alessandro! Movi, devo stare a perna! Dai, tira! Tira! Tira, la, tira! Tira, tira! Tira, Sanro! Da, O, Sanro! Da, O, Sanro! Grazie a tutti. Vai avanti con le gambe, tira tui colpi, tira tui colpi, dai non devi aggredire Alessandro, tira, aggredisci Alessandro, dai come prima Alessandro, no rimanere fermo, no rimanere fermo, vai tira, dai come prima Alessandro, tu glinta vai. 1, 2, stretto, vai. Diritto per destra. Diritto per destra. Diritto per destra. Uno, due, dritto. Uno, due, dritto. Dai, ancora. Dai, ancora, dai. Uno, due, dritto, Alessandro. Dai. Dai, ancora. Dai, Tina. Fatte prima te, Alessandro. Fatte prima te, Alessandro. Dai, Alessandro, vai sopra. Dai, Alessandro, vai sopra. Dai, Alessandro. Nessandro, vai. Dismano. erk, voit. Dai, Alessandro. Tira. Tira, Salmo. Dai. Dai, Alessandro. Dai, Alессandra. Mmm... Dai. Dai. ould cash zijęęęęęęęęęęęęęęęęęąęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęęGrę. Tira i colpi, tira i colpi, tira i colpi. Tira i colpi, tira i colpi, tira i colpi. Tira i colpi, tira i colpi, tira i colpi, tira i colpi. Tira i colpi, tira i colpi, tira i colpi. This morning I'll see you later